E' andata male, è andata molto male, molto male. Intanto cominciamo col fare complimenti al Porto perché ha meritato decisamente la vittoria, al di là del fatto che questa sia arrivata attraverso un gol che andava decisamente annullato, ma questa sera abbiamo avuto l'ennesima riprova che insomma al VAR funziona un po' così come gli pare, non è che ci siano grandi regole riguardo a questa innovazione tecnologica che avrebbe dovuto togliere progressivamente tutti i dubbi, invece ormai sono anni che vediamo queste cose, ma vabbè inutile che mi spenda, sapete come la penso a riguardo. Invece c'è da dire che al di là del gol che andava annullato, che al di là di tutto abbiamo giocato veramente male, abbiamo giocato veramente male, una delle peggiori partite dai tempi della trasferta sul campo dello Spezia, mi viene da pensare forse sul campo della Lazio, l'ultima sconfitta in campionato ad aprile, insomma abbiamo giocato male, mi ha sbagliato quasi tutto, abbiamo avuto veramente pochissima capacità di costruire azioni offensive, abbiamo avuto una sofferenza e direi che soprattutto ci siamo spaventati molto. Dopo un inizio di partita anche tutto sommato che poteva darci un'illusione di esserci dentro perché dal punto di vista del ritmo dell'aggressività dei duelli c'eravamo e poi dopo quando il Porto ha cominciato a venire avanti, quando hanno colpito il palo, da lì in poi è stata una progressione, una discesa verso gli inferi del Milan che si è spaventato come dicevo e non ci ha capito praticamente più nulla. A questo sommiamo alcune scelte del mister che io sinceramente non ho capito ma dei quali parliamo tra poco e il risultato è che di fatto siamo fuori dalla Champions League. Ora molto probabilmente Maldini parlava di nove punti per andare avanti ma insomma è chiaro che i nove punti passavano inevitabilmente per la vittoria questa sera, la vittoria che non è arrivata. Motivi, motivi della sconfitta sono innanzitutto quello che dicevamo e che ci siamo sempre detti, che ci siamo detti da quando l'abbiamo riconquistata. La Champions è una competizione molto difficile, è una competizione dove serve anche un pizzico di esperienza che tanti dei nostri ragazzi non avevano perché questa sera guardando la formazione penso a giocatori che la Champions non l'hanno mai fatta. Ballotouret, Benasser, Tonali, Saleme Kerr, Krunic che era la prima presenza, lo stesso Leao, avevamo solamente, se non vado errato, forse anche Tataruzano, comunque se non vado errato Tomori credo avesse spiccioli di presenza, poi Kier e Giroud gli unici con esperienza in Champions e questo è il primo dettaglio. Poi dopo è chiaro che se non riesci a costruire un piano gara che ti possa permettere di creare dei pericoli è evidente che le cose vanno a schifio. Non ho capito alcune scelte di Pioli. Allora, innanzitutto, come ci eravamo detti oggi, questa mattina, se c'era un modo per mettere in difficoltà il Porto, sarebbe stato quello di provare sugli esterni, di provare a giocare in una maniera molto ampia e in questo senso se da un lato Leao lo faceva, dall'altro lato Saleme Kerr ha continuato a fare lo stesso movimento che fa sempre, ma questa sera senza avere un giocatore al centro che potesse dargli supporto, è tipicamente Brian Diaz, e senza mai allargarsi troppo per cercare di generare ampiezza. È rimasto spesso in una posizione di mezzo, è chiaro che non era semplice da quella parte, perché c'era un cliente che questa sera ha fatto veramente quello che voleva, cioè Luis Diaz, e quindi c'erano dei problemi, però è anche vero che non siamo mai riusciti praticamente a tenere questo giocatore basso, non siamo mai riusciti ad andare bene sugli esterni, a parte, ripeto, i primi minuti di Leao che ci aveva dato l'illusione che qualche cosa potesse capitare da quella parte. In realtà anche lui poi si è perso, non capendo, credo, le indicazioni del mister che continuava a dirgli di stare più vicino a Giroud per cercare di creare così qualche pericolo magari sulle seconde palle, cioè sui palloni alti che Giroud avrebbe dovuto prendere e che invece non è riuscito quasi mai a servire, perché nonostante abbia vinto quasi tutti i due e gli aerei sulle seconde palle ci arrivavano spesso prima loro. Quindi questa cosa sinceramente non l'ho capita, cioè non ho capito quale fosse l'idea di Pioli per andare a far male al Porto, perché se hai Giroud davanti è chiaro che devi proporre delle soluzioni di cross, se vuoi proporre soluzioni di cross devi giocare in ampiezza, per giocare in ampiezza devi cercare di fare in modo che i tuoi esterni non vengano sopraffatti da quelli del Porto, perché Ottavio da un lato e Luis Diaz dall'altro, ripeto, hanno costretto a una partita di grande sacrificio sia Calabria che Ballotture, che tra l'altro poi è stato sostituito quando sinceramente credo avessi giocato la migliore prestazione, comunque era uno dei meno peggio nel male della squadra, è stato sostituito dal lato di Calulu, poi è nato il cross da cui è arrivato il gol. Calulu male questa sera, male anche Bacarico quando è entrato, ma al di là dei singoli, perché poi potremmo parlare anche di Tomori che ha giocato la peggior partita, credo da quando è il Milan, seppur con un salvataggio che parzialmente l'ho riscattato, al di là dei singoli, ecco, io credo che proprio sia stato l'impianto di gioco questa sera a non funzionare, cioè un Milan che seppur cercando di rimanere sempre ordinatino, bellino in campo, non è mai riuscito a creare un pericolo, cioè alla fine l'unica mezza conclusione è stata quella robetta di Giroud ed è stato di fatto l'unico tiro in porta che abbiamo fatto, ora quando tu fai un solo mezzo tiro in porta in una partita così importante non puoi pensare di vincere, il Porto, tra l'altro non è che il Porto abbia tirato poi in porta tantissimo, perché ne ha fatti due, però i tiri totali sono 20, 11 fuori e quindi direi che ha legittimato anche da questo punto di vista la vittoria. Poi, ripeto, a un certo punto credo che Pioli abbia fatto anche i cambi un po' conservativi, perché ha tolto Tonali, forse in vista del campionato, non lo so, ha tolto Tomori, forse perché lo vedeva in difficoltà, non lo so, poi è entrato Ibra e poco e niente, ma voglio dire è inutile discutere di queste cose, è chiaro che si può pensare, si poteva pensare anche, beh, tanto valeva tenere Giroud perché magari il guizzo lo tirava fuori a un certo punto come è accaduto col Verona, ma se tu palloni e non ne fai arrivare davanti puoi avere anche Gesù che gioca con la maglia numero 9 e non ci sono tutti i suoi santi che tengano, cioè non puoi, non puoi, se non hai un'idea di come uscire non puoi, oltretutto. Questione centrale, secondo me nella zona in mezzo, quella che avevo fatto vedere oggi, secondo me lì serviva un giocatore che purtroppo non c'era, credo che con Brain Dias in quella zona forse avremmo potuto dargli più fastidio, avremmo potuto anche muovere un po' di più la difesa del Porto, cosa che non siamo mai riusciti a fare. Krunic è stato da subito in confusione, da subito non è riuscito a trovare la posizione, da subito non riceveva e non dava, ha fatto solo, mi pare un assist in profondità nel primo tempo, una buona palla, ma per il resto è stato risucchiato, però ripeto, la parte offensiva del Milan, se non progettata per giocare in un certo modo questa partita, non poteva fare assolutamente niente. Se a questo sommiamo il fatto che in difesa siamo stati molto meno attenti, anche nel primo tempo c'è stata un'azione, non mi ricordo se da calcio d'angolo, da calcio di punizione, dove un giocatore del Porto, forse Taremien, non mi ricordo, è saltato in aria completamente da solo, completamente da solo, queste cose qua denotano la confusione della serata. Conclusioni, perdiamo giustamente la partita forse più sulla carta, alla nostra portata in questo girone, dopo aver comunque fatto vedere qualcosa, se non altro a Liverpool, ha fatto una buonissima partita con tutte le difficoltà di aver giocato per tanto tempo in dieci contro l'Atletico Madrid. Questa sera c'è delusione perché al di là delle assenze che comunque pesano, comunque sono importanti, però non credo che questa squadra non potesse fare meglio di quello che ha fatto stasera. Ci saranno delle valutazioni da fare, delle analisi da fare, ripeto, su come il mister volesse aggredire il Porto, su come il mister volesse metterli in difficoltà. Io non lo so, resta il fatto che questa sera apprendiamo quanto, se ce ne fosse bisogno, ma più per loro che per noi, che forse lo sapevamo già, quanto la Champions sia un torneo difficile, quanto la Champions sia un torneo di dettagli, un torneo di partite complicate e dove serve, ripeto, dove serve l'esperienza, dove serve un po' di astuzia, tutte cose che noi non abbiamo visto, non abbiamo visto nemmeno nelle prime due partite e quindi molto probabilmente, anzi direi ormai quasi sicuramente usciremo. L'importante è fare adesso tre partite dignitose per quel che riguarda il girone e per chiuderlo se non altro, ecco, voglio dire, non voglio pensare a zero punti, ma per chiuderlo se non altro con la consapevolezza che ci siamo ritornati dopo una vita. Abbiamo beccato un girone molto difficile, facciamo necessità di Irtù, sicuramente non è mai stata anteposta la Champions al campionato, questo credo che sia logico, però passare attraverso queste partite è importante. Speriamo che quello che è il risultante di questa sera, speriamo che sia una voglia di riscatto cercando di andare a capire cosa non ha funzionato stasera e Dio solo sa se ce n'è da studiare per cercare di non ripetere, magari anche in campionato, prestazioni del genere, che è stata veramente una prestazione scadente questa sera del Miran. La serata non finisce qua, ci sentiamo su Telegram.